Musica Questi sono i miei Nintendo Questo è il mio PC Questa è la mia Playstation 3 Questa è la mia Xbox Questo è il mio G13 Questa è la mia Playstation 4 Questa è Morluto da Gaming E questa è la nostra capra Ciao amici di Youtube Ben ritrovati in Morluto da Gaming Come avrete intuito Oggi giocheremo a God Simulator Partiamo Ah così a brutto muso Che sta a fare? Salve Buon uomo Ma questi stanno a fare drift? Beh è fantastico Revenge No Vaffanculo No C'è una capra Mica un toro Ma che cazzo balli Tonto Non ti preoccupa caro mio Sarò io il basso nella tua vecchiaia Ma io c'entro dentro la betoniera? Eh perché Fenceveria Rientra dentro la betoniera Eh beh dai si No Iron Man è finita Iron Goat Ma che sta succedendo? Ah va bene Ma che è ingestibile Sembrano davvero le proprie che faccia Tony Stark A inizio che ne reggeva tutta Perché io sia un pallone da basket Queesta è una Ta 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 Alla Li scia tantissimo Che sta succedendo A stu momento Voglio ballare anch'io Così Ballare anche tu Che è lo scivolo Ah lo puoi Spegnissello E' uno dei pochi giochi dove sei contento E felice E li aspetti I bug Ma con me Ah no, è uno dei posti dove c'è solleana col baseball Masse Ah, QR Il problema è che lo stesso tasto del jackpack No, no, no Bellissimo Low gravity testing facility Sì Ah, me sta facendo Fatti gli achievement nel cuo All time hard Cazzo stiamo a volare un botto Che cosa è Questa è Jenga Non stiamo a andare Siamo molto d'accordo con gli ultimi esperimenti Oddio Che gli è successo È caduta tipo spaghetto Capito? È innegabile che è divertente No, la macchina è l'altra volta Buon pranzo Vabbè, dai, mi sembra abbastanza triste come pranzo Quindi sì Vabbè, fa un culo Te do io il pranzo Nooo Cioè, ma tu lo tieni all'infinito sto motion Lo posso anche togliere Ok Oddio, fammi quella cosa del Cavaliere Oscuro Volevi fare questa cosa tu? Sì, più o meno Gli alieni? Monaco Oh, no Questa è muscolosa, guarda Questa è una capro GM Eccola Sì Sì Decisamente il muonio migliore per scendere da uno scivolo Aspetta, facciamo un po' dei psichedelico Tu 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 No Io faccio boot Ma più che Io la voglio guidà Cazzo, c'è la mia D-Bat Stonehenge Sì, dai Che strano No, no, no Te prego, te prego Te prego No Che è un pavesino sembra Guardali, sono pavesini Oh, don't you know Piano Piano Ma che stai dicendo Ma che sta succedendo Ebel Che cazzo stanno facendo le case Sono tutte per noi C'entrano il diabolico Che sta succedendo Ma che cazzo sta succedendo Eh sì Vabbè, dai, cerchi sul grande Oh Oh, oh, oh Sali? Oddio mio Ma chi è il genio che sta Sta cagare È una trap In the future Oh Oh Ulvi? Toh, imparate a sviluppare sti giochi pieni di bug Stronzi Questa è come Flappy Bird Solo con l'interfaccia Neancut Vabbè, dai E l'ho toccato Madonna E sta cosa Oh Andiamo a distruggere l'onda civic Con sto sasso Ma secondo me non basta Quello è indistruttibile Te lo dico io Ma gioco io Dove sta sto sasso Ma che cazzo è Che è sto posto Come mai si vede tutto sfogato Dico sta musica di Crash Bandicoat Vabbè, ma qualcosa deve servire St'attrezzo, dai Reach for the stars Possiamo sacrificare queste persone a Satana A Satana A Satana Nel potere di Satana Che è? No È la cosa più bella Del mondo Io sono sconvolto Sìi Proviitch Che è? Fee No comunque Il demonio non può Eh vabbè Vabbè ragazzi ma che sta succedendo Ma che è? Ma dove stavo? Ragazzi io non sto facendo niente Alza le mani Perché almeno Oh, 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 il deltaplano Il deltaplano Ascolta, però fa una cosa Però sali sulla gru Mi so ore che stiamo di qui comunque Quello Vai No Oh, questo cazzo devi salire No Grande, guarda Complimenti Complimenti Io direi che con sta fantastica diapositiva Vi salutiamo Pizza, birra, una serata con le capre Direi epico Costa poco Costa poco Sì, la mappa non è immensa Però è ricchissima di segreti Che sono tutti divertenti Che altro, divertentissimo Secondo me è stata azzeccata Concordi? Sì, 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 decisamente Dicevo, con questa immagine Vi salutiamo Con questa ragazzi Vi salutiamo anche questa volta Ciao Ciao Ma?